Sono Libero Grassi. Io e tutta la mia famiglia abbiamo deciso di non pagare il pizzo. Fermi tutti, stai da me! Io vado avanti, ci voglio scrivere chiuse perché sarà scocciato, non perché lo fecero giudere. Qui se non pagate cominciano a pestolettare. A testa alta, Libero Grassi. Domenica in prima serata su Canale 5.